Spagna, Germania, Malta. Le banconote made in Catania erano state già messe in circolazione in diversi paesi europei. È stato infatti dopo la segnalazione dell'Europol che i carabinieri di Catania si sono messi sulle tracce della stamperia. Seguendo così il flusso di denaro, gli investigatori sono arrivati sino ad un'abitazione nel quartiere San Cristoforo. Il pregiudicato, Salvatore Massimiliano Guglielmino, 39 anni, e la madre avevano trasformato la loro casa in una tipografia del falso specializzata non soltanto nella produzione di banconote. Tra i servizi offerti, per così dire, c'era anche la stampa di documenti falsificati. Sono stati infatti trovati numerosi blocchetti di certificati assicurativi contraffatti, con tanto di contratti e vari diplomi di attestazioni di qualifiche personali che venivano venduti sul mercato locale. La stamperia era stata organizzata con computer, scanner e stampanti. Lo stesso presunto falsario d'altronde aveva esperienza nel campo. In passato era titolare di una tipografia nel centro storico. All'interno dell'abitazione sono state trovate anche banconote del taglio di 10 euro per un valore complessivo di 10.000 euro. Per Salvatore Guglielmino è scattato così l'arresto, mentre la madre è stata denunciata. Sono accusati di falsificazione di monete, detenzione di strumenti atti alla falsificazione e falsità materiale. Le indagini dei carabinieri continuano per verificare eventuali altre tipografie del falso in città.